9 docenti su 10 non credono alle promesse dei partiti politici di aumentare gli stipendi degli insegnanti equiparandoli a quelli dell'Unione Europea. In vista delle elezioni del 25 settembre prossimo i vari partiti politici stanno incentrando la propria campagna elettorale proprio sulla scuola, in particolare sull'aumento degli stipendi dei docenti da innalzare portandoli alla media europea entro la fine della prossima legislatura. La tecnica della scuola ha chiesto i lettori se ritengono i partiti credibili e in grado di mantenere realmente questa impegnativa promessa elettorale che prevederebbe l'investimento di svariati miliardi di euro. Al sondaggio hanno partecipato 1.627 elettori, il 93,4% di loro sono docenti, del rimanente 6,8% fanno parte dirigenti, ATA, genitori e studenti. Dei 1.539 docenti, il 92,1% pensa che non ci sarà nessun aumento di stipendio, non credendo dunque alle promesse politiche. Per quanto riguarda la categoria altro, cioè dirigenti, ATA, genitori, studenti, sono stati 329 i partecipanti, con un 85,7% predominante. anche questi ultimi hanno confermato la stessa impressione dei docenti.